Lunedì 16 maggio, come da tradizione di Sanzo Pito, ci sarà la Sacra Processione che poi arriva in piazza dove si inginocchierà il bue. Vi aspettiamo anche per la diretta web della processione. Ogni anno, nel lunedì di Pentecoste, noi celebriamo la festa di Sanzo Pito Martire, un martire dell'antica Grecia. La tradizione vuole che nel 1711, quando le sue reliquie da penne furono portate a Loreto, un contadino che erava con i buoi continuava a lavorare tranquillamente, invece uno dei due buoi si fermò e si inginocchiò al passaggio delle reliquie. Ci sarà la messa alle 18 e poi si partirà da qui con le reliquie di Sanzo Pito, un giro attraverso il centro storico di Loreto e poi arrivati in piazza c'è proprio la rivocazione di questo buoi che si inginocchia davanti alle reliquie e che segue le reliquie di Sanzo Pito fino praticamente all'ingresso del portone della chiesa. Oggi nel lunedì di Pentecoste è come ormai tradizione, penso di non sbagliare nei numeri, la 305esima edizione della festa di Sanzo Pito, il padrone di Loreto. Un particolare ringraziamento al comitato cui a capo il parroco donna Andrea Di Michele che si prodiga sempre più affinché ogni anno si ripeta questa antica tradizione che porta alla genoflessione del buo al passaggio delle reliquie di Sanzo Pito. Quindi una festa che oltre ad essere molto importante è seguita dai cittadini noretesi e seguita molto anche da chi viene da fuori.